Buongiorno amici, riprendiamo un po' la lettura dei quotidiani calabresi con la giunta del Corriere dello Sport nazionale martedì 28 luglio 2009, apriamo con il Corriere dello Sport che dice Toe Milito Show, intera i due nove attaccanti, subito protagonisti, gol e promesse di taglio alto troviamo Diego e Melo e Vera Juve e domani arriva Caceres eccoli qua i nuovi talenti della Juventus, Diego Ribas da Cugna 24 anni e Felipe Melo del Carvaio 26 anni e poi vi taglio un po' di più giù, troviamo Ibrahimović che lascia l'Inter per indossare la prestigiosa maglia del Barcellona fresco di campione d'Europa 50.000 ieri a vedere Ibrahimović al Nou Camp, 50.000 per vederlo palleggiare con la maglia del Barcellona apriamo con la gazzetta del Sud, Calderoli peggio dei talebani, molto responsabile della prete di posizione di Franceschini per il PD, dichiarazione da Bar Sport in un momento in cui l'Italia svolge un ruolo primario per l'Afghanistan vediamo un po' di taglio alto, Sersale, seconda intimidazione, data le fiamme alla porta dell'abitazione del sindaco Catanzaro, scattalo sciopero, call center, 2.000 dipendenti da due mesi senza stipendi, davvero tragica questa notizia di taglio basso, Obama e realista tende la mano alla Cina di taglio basso, troviamo la caduta del Papa, vediamo le cause, cercando l'interruttore della luce, urtò la gamba del letto, la caduta che procurò la frattura del polso a Papa Ratzinger, lo vediamo nella foto, tutto fasciato ma potrebbero cambiare gli impianti, secondo il mio consiglio, dal settore in cui logicamente rivesto da elettricista, impiantista, vorrei dire che ci sono anche gli interruttori con i sensori, con le fotocellule solo passando con la mano o col fisico davanti all'interruttore, la luce va in funzione e potrebbero evitarsi questi, si potrebbero evitare questi incidenti. La mezza termine, processo Giampa, intercettazioni incomprensibili, nelle foto il giudice Pino Spadaro sulla Gazzetta del Sud, questa notizia, crotone eroine nascoste nello iogo su tre arresti della Polizia. Vivo Valencia, Luvione, convalidato il sequestro delle 4 ville. Sarcosi lascia l'ospedale ed evasione fiscale per un miliardo di aggrigenti scoperta dalle fiamme gialle. Il Quotidiano invece 28 luglio apre con la cronaca ha ucciso davanti al figlio e al fratello. Cassano Ionio, Fazio Cirolla, forse colpito per un errore di persona. Chiedere in azione in un autosalone ieri a Cassano Ionio, nell'alto Ionio Cosentino, gli altri presenti si salvano saltando dalla finestra. L'operaio era incensurato ed è scritto da tutti come un uomo onesto. L'aspe di Cosenza, la lente della Digos sull'affitto del palazzo, a cui Mancini fece abbattere due piani. Taglio alto sul Quotidiano. La questione meridionale dell'Afghanistan agitano i sonni di Silvio Berlusconi. Crepe nelle maggioranze di governo, partito del sud, le reazioni calabresi. Riaprono i due forni dell'Udc di Roberto Losso. A pagina 15 poi l'articolo, l'annuncio di Greco, istituiti cinque nuovi parchi marini in Calabria. Tentata fuga in treno, nuovo sbarco di clandestini sulle spiagge della Locride. Mega discarica di Scala Cieli. Procedimento interrotto. Ipotesi di termovalorizzatore. Un articolo di Loiacono a pagina 10. Sempre sul Quotidiano, in odio della politica. Applauso di Lombardo, Mici che è critico. L'opposizione basta bugie allo paese. Mezzogiorno servono i fatti. Dibattito sul piano per il sud annunciato da Berlusconi. Nella maggioranza ci sono ancora divisioni da superare. Nella foto gigante, Silvio Berlusconi sembra ammaestrare tutto ciò che dice. Con le sue braccia aperte, partito del sud, solo una copertura per il fallimento dei governatori. Nella foto Pierluigi Bersani. La mozione Bersani propone un candidato unitario e autorevole. La prima riunione alla Mezzia. Mario Oliverio. Candidato? Decreto anticrisi alle Camere. Il governo K.O. sul Meridione. Taglio basso. Ancora polemiche nel PD. Fassino tenta di mediare. Udc. Riempire di contenuti l'intesa col PDL. Lo dice il segretario Talarico. Francesco Talarico illustra alla direzione del partito le strategie per le regionali. Nella foto, l'onorevole Franco Talarico. Vediamo un po' all'interno. Alle lezioni amministrative di Cosenza e Corradona abbiamo scelto di sostenere candidati del PDL sulla base dei programmi e perché sono stati accettati i punti programmatici del nostro andare da soli. Da lì è stato avviato un percorso per le prossime elezioni regionali che dovrà essere riempito di contenuti. A sostenerlo è stato il segretario regionale dell'Udc. Lilla Medino, Franco Talarico, nel corso di lavori della direzione regionale del partito svoltasi a Lamezia Terme. A tale scopo, ha proseguito Talarico, l'Udc. lavorerà per definire un programma di cose concrete e a settembre avvierà una campagna di ascolto per addivenire appunti programmatici forti su cui confrontarsi nel merito che si concluderà con una conferenza programmatica alla presenza dei vertici nazionali del partito. E più avanti poi l'articolo continua.